Un riconoscimento per il città di Messina più che mai meritato al termine di una stagione emozionante che vi ha visto avere dei momenti esaltanti, qualche momento di delusione e poi l'apice nella finale con i Ragusa. Sì, è stata veramente un'annata bellissima. Siamo partiti convinti delle nostre forze, poi abbiamo avuto un momento di abbattimento però poi ci siamo ripresi subito concludendo il campionato con queste tre vittorie finali che erano veramente alcune delle quali inaspettate, con formazioni molto preparate, molto forti però l'entusiasmo, la capacità di fare squadra, la forza e la voglia di giocare e di vincere dei nostri ragazzi ci hanno permesso di raggiungere questo risultato che forse all'inizio non si pensava si potesse raggiungere ma ce l'abbiamo fatta. È stato veramente poi alla fine un'apoteosi, un risultato che ci ha dato la soddisfazione e ci ha ripagato degli sforzi che in questi anni abbiamo profuso in questa società. Probabilmente il momento clou è nato proprio da una sconfitta, quella che avete patito nei play-off sembrava la fine della stagione, invece da quel momento la squadra ha ingranato una marcia superiore e vi ha regalato delle grandissime soddisfazioni. Sì, anche nei momenti di difficoltà abbiamo dimostrato la forza del gruppo, la forza che anche il nostro mister Bellinbi ha saputo trasmettere ai ragazzi. Abbiamo vinto l'ultima partita in 10 contro 11 contro una squadra molto titolata e molto anche forte sulla carta. Quindi questo dimostra come quando si gioca con la voglia di vincere e con la mente sgombra da problemi si riescono a raggiungere risultati. Noi ripartiamo adesso dall'eccellenza che è la serie dalla quale eravamo partiti nel 2010 e quindi abbiamo percorso questo cammino e adesso continuiamo a investire, a lavorare per questa squadra e per il calcio a Messina con tutte le formazioni nostre giovanili e con la scuola calcio. Un riconoscimento che va ampliato infatti anche al settore giovanile, lo curate con grande passione e competenza e ottenete ogni anno degli ottimi risultati. Noi crediamo molto ai giovani, noi investiamo sui giovani, la scuola calcio è la dimostrazione di questa nostra voglia di investire sui giovani. Tutte le nostre squadre giovanili sono frutto di un lavoro a sito di tutti i mister e dell'equipe che lavora con noi. Crediamo nei giovani e anche nei giovani nella prima squadra che inseriamo ogni volta che si offre l'occasione. Quindi i giovani per il calcio sono una risorsa. Dobbiamo fare questo, noi che siamo piccole società, ma è anche un esempio che deve essere per le squadre di serie superiori, investire sui giovani come d'altro canto si fa anche in altre nazioni, vedi la Spagna, l'Inghilterra, dove i talenti vengono fuori dalle giovanili, vengono fuori dal proprio settore giovanile. Quindi anche questo in piccolo vogliamo fare noi, senza avere grandi ambizioni, nel senso che sappiamo che la nostra è una piccola società dove siamo pochi soci che investiamo, però vogliamo farlo con la passione, con la determinazione e con la serietà che credo distingua la società Città di Messina. Adesso ripartirete con un organico che probabilmente più di altri avevate già programmato per questo salto di categoria, però c'è da rinforzarlo e vi siete già mossi con il primo acquisto. Sì, noi pianifichiamo per tempo, cerchiamo di gestire la società come gestiamo le nostre imprese, quindi con una pianificazione attenta, seria e avveduta senza fare colpi di mano. Abbiamo confermato quelli che ritenavamo fossero i ragazzi che avrebbero potuto affrontare l'eccellenza, la stiamo rinforzando questa rosa con innesti di qualità, giovani che hanno ben figurato negli anni passati e quindi i nuovi acquisti danno ancora più forza a una squadra che però ha già un tessuto che ci dà affidamento e affidabilità ed è anche una squadra molto coesa, molto legata tra di loro e quindi col nuovo mister faranno sicuramente, col nuovo direttore sportivo faranno sicuramente un anno di soddisfazioni ci premierà, io immagino, premierà gli sforzi che tutti noi, a cominciare dal presidente Maurizio Lore, tutti noi facciamo per questa squadra, per il calcio e per Messina, pur nelle difficoltà, perché qua dobbiamo non segnalare le difficoltà che abbiamo ad operare nel calcio a Messina. Noi siamo assieme al Camaro la seconda squadra della città ma non abbiamo un campo di gioco dove allenarci, dove giochiare, usufriamo di una struttura privata che paghiamo con i nostri soldi e quindi questo sicuramente non va a merito di un'amministrazione che forse avrebbe dovuto tenere maggiore attenzione per lo sport, essendo il sindaco anche un uomo di sport e per il calcio in particolare. Facciamo conto che la città di Messina ha 250.000 abitanti, ha soltanto due stadi, di cui uno non utilizzato, è un campo a 11 in sintetico, quindi questo dimostra come c'è poca attenzione per il calcio. Al di là di quelle che sono le cautele di rito in questi periodi, quali saranno le ambizioni e gli obiettivi per la prossima stagione? Noi vogliamo fare un campionato dove ci vede impegnati in posizioni di alta classifica, però ovviamente dobbiamo anche sapere che ci confrontiamo con delle squadre, quelle che mantengono l'eccellenza, che hanno già strutture rodate e che chiaramente si presentano ai nastri di partenza con un'esperienza superiore alla nostra. Però non ci fermiamo davanti a niente, quello che arriverà sarà sempre il risultato del lavoro che andremo a fare. Speriamo bene, come è stato per l'anno scorso, vedremo passo dopo passo quello che andrà fatto e dove arriveremo.